io questi soldi non li voglio non c'erci perché non è il discorso, non è il discorso io devo un'altra cosa con un cento di gente, quindi non è che Massimo, tu chiedi, tu puoi raccogliere tutti questi soldi, dottor discorso è una perfetta di un'oppesa e che c'è la ragazza, come non la devo fare perché siamo un caldo, se ti danno i soldi, il discorso è finito io ho parlato con queste persone, gli faranno pure un regalo e poi c'è due ragazze, perché penso che queste cose non si fanno perché non mi sono sopporti a impiare, non fia e la coi piedi, il cuore di sofferenza, è così, non c'è chi li sta una cosa che mi fa ma posso dire, ma a me sono più piccoli, il dirigio è meglio, con l'aero che ci passa bene, il dirigio è impegno, con l'arero che ci passa bene ti dicono impegno, con l'arero che ci impegno, con l'arero che ci impegno non c'è, con l'arero che ci fa, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è non c'è, è non c'è, no, l'arero fita ne faccio, non c'è, non c'è competenza o saltate